Quante ragazze hai? Una, quante ragazze? Hai messo altre ragazze qui al Paradise? Sì ma niente di che, insomma tu sei... E allora cosa fai? Cosa fai? Continui a sbirciare tra le cabine o... O ti fermi? Ciao Gossip TV! Sasha è arrivato a Roma e il teatro per la prima nella capitale si è riempito di vinto. C'è Giorgio Panariello, amico della produttrice Sabrina Ferilli. Dionis Bashir, inseparabile dalla moglie. Bella e seducente la bionda Nathalie Caldonazzo. Fotografatissima. Non poteva mancare per Gittà Boccoli, sorella della protagonista Beneditta, senza la sua dolce metà. Sebastiano Somma nel ruolo principale è davvero un bel vedere. Pinetto Davoli stringe sotto braccio la compagna e scherza con tutti. Poi c'è lei, Sabrinona, affascinante, arguta, sorridente, una donna di successo. Tutto quel che tocca diventa oro, anche a teatro. I complimenti si spregano, la feriglia amica compiaciuta e si gode lo spettacolo. Grazie a tutti.